Oggi andiamo a esplorare ancora di più nella saggezza e negli insegnamenti della legge e la promessa. Andiamo a esplorare queste testimonianze nel libro della legge e la promessa dei suoi studenti. Andiamo a vedere un piccolo capitolo intitolato Stati d'animo. Inizia con una citazione di Sir Winston Churchill che dice così Questa è un'epoca in cui l'umore decide le fortune delle persone piuttosto che le fortune decidono l'umore. Gli uomini considerano i loro stati d'animo troppo come effetti e non abbastanza come cause. Gli stati d'animo sono attività immaginarie senza le quali nessuna creazione è possibile. Diciamo che siamo felici perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Non ci rendiamo conto che il processo funziona altrettanto bene nella direzione inversa. Che raggiungeremo il nostro obiettivo perché abbiamo assunto il sentimento felice del desiderio realizzato. Gli stati d'animo non sono solo il risultato delle condizioni della nostra vita. Sono anche le cause di queste condizioni. In psicologia delle emozioni il professor Ribot scrive Un'idea che è solo un'idea non produce nulla e non fa nulla. Agisce solo se è sentita, se è accompagnata da un stato effettivo, se risveglia tendenze, cioè elementi motori. La signora della storia seguente ha sentito così bene la sensazione del suo desiderio realizzato che ha fatto del suo stato d'animo il personaggio della notte, congelato in un sogno delizioso. La maggior parte di noi leggi e ama le favole, ma tutti sappiamo che le storie di ricchezze impossibili e di fortuna sono per la gioia dei più giovani. Ma lo sono davvero? Voglio raccontarvi qualcosa di incredibilmente meraviglioso che mi è successo grazie al potere della mia immaginazione e non sono giovane di età. Viviamo in un'epoca che non crede né nella favola né nella magia, eppure tutto ciò che potevo desiderare nei miei sogni più selvaggi mi è stato dato dal semplice uso di ciò che le insegna, che l'immaginare crea la realtà e che sentire è il segreto dell'immaginare. Quando mi è successa questa cosa meravigliosa ero senza lavoro e non avevo una famiglia a cui appoggiarmi. Avevo bisogno praticamente di tutto. Per trovare un lavoro decente avevo bisogno di una macchina per cercarlo e sebbene avessi una macchina era così logora che era pronta a cadere a pezzi. Ero indietro con l'affitto. Non avevo vestite adatti per cercare un lavoro e oggi non è divertente per una donna di 55 anni fare domanda per un lavoro di qualsiasi tipo. Il mio conto in banca era quasi esaurito e non c'era nessun amico a cui potessi rivolgermi. Ma ho frequentato le sue lezioni per quasi un anno e la mia disperazione mi ha costretto a mettere alla prova la mia immaginazione. Infatti non avevo nulla da perdere. Era naturale per me, suppongo, iniziare immaginandomi di avere tutto ciò di cui avevo bisogno. Ma avevo bisogno di così tante cose in così poco tempo che mi ritrovai esausta quando finalmente riuscii a finire la lista. E a quel punto ero così nervosa che non riuscivo a dormire. Una sera di una conferenza ti ho sentito raccontare di un artista che ha catturato la sensazione o parola, come l'hai chiamata tu, di non è meraviglioso nella sua esperienza personale. Ho cominciato ad applicare questa idea nel mio caso. Invece di pensare e immaginare ogni articolo di cui avevo bisogno, ho cercato di catturare la sensazione che qualcosa di meraviglioso mi stava accadendo. Non domani, non la prossima settimana, ma proprio ora. Mi ripetevo continuamente mentre mi addormentavo. Non è meraviglioso? Qualcosa di meraviglioso mi sta accadendo ora. E mentre mi addormentavo mi sentivo come mi sarei aspettato di sentirmi in tale circostanze. Ripetei quell'azione e sensazione immaginaria per due mesi. Notte dopo notte, un giorno all'inizio di ottobre, incontrai un amico occasionale che non vedevo da mesi e che mi informò che stava per partire per un viaggio a New York. Avevo vissuto a New York molti anni fa e parlamo della città per qualche istante e poi ci separamo. Ho completamente dimenticato l'incidente. Un mese più tardi, oggi, quest'uomo ha chiamato a casa mia e mi ha semplicemente consegnato un assegno certificato a mio nome di 25.000 dollari. Dopo aver superato lo shock iniziale di vedere il mio nome su un assegno di così tanti soldi, la storia che si svolse mi sembrò un sogno. Riguardava un amico che non vedevo né sentivo da più di 25 anni. Quest'amico del mio passato, ho saputo ora, era diventato estremamente ricco in quei 25 anni. Il nostro comune conoscente che mi aveva portato l'assegno lo aveva incontrato per caso durante il viaggio a New York il mese scorso. Durante la loro conversazione parlarono di me e per ragioni che non dovevo sapere, perché fino ad oggi non ho mai avuto sue notizie e non ho mai cercato di contattarlo, questo vecchio amico disse di condividere con me una parte della sua grande ricchezza. Per i due anni successivi dall'ufficio del suo avvocato ho ricevuto assegni mensili di importo così generosi che non solo coprivano tutte le necessità della vita quotidiana, ma ne rimanevano molti per tutte le cose belle della vita. Una macchina, vestiti, un appartamento spazioso è meglio di tutto, nessun bisogno di guadagnare il pane quotidiano. Il mese scorso ho ricevuto una lettera e alcuni documenti legali da firmare che prevedono la continuazione di questo reddito mensile per il resto della mia vita naturale. e questa è la storia di questa signora usando questa tecnica leggera ma fortissima di cui ne abbiamo anche parlato su uno di questi video che faccio il sabato, quello di non è meraviglioso? Cioè catturare la sensazione o parola oltre la sensazione che è come dire mi meraviglio, non vuoi capire quanto è meraviglioso? È meraviglioso ciò che sta accadendo a me ora. Quindi catturare la sensazione che qualcosa di straordinario sta accadendo adesso nella tua vita. Questa è la tecnica di cui sta parlando questa signora. E andiamo a vedere cosa ci dice ancora Neville. Neville continua con una citazione di William Blake che dice così Se lo sciocco persistesse nella sua follia diventerebbe saggio. Sir Winston ci invita ad agire partendo dal presupposto che possediamo già ciò che abbiamo cercato ad assumere una virtù se non l'abbiamo. William Shakespeare disse questo in abletto Non è forse questo il segreto dei miracoli. Così all'uomo paralitico fu detto di alzarsi, di prendere il suo letto e camminare, di agire mentalmente come se fosse guarito. In Matteo 9, versetto dall'1 all'8 In Marco 2, dall'1 al 13 In Luca 5, dal 18 al 25 In Giovanni 5, dall'1 al 17 E quando le azioni della sua immaginazione corrispondevano alle azioni che avrebbe compiuto fisicamente se fosse stato guarito, fu guarito. Andiamo a scoprire un'altra storia. Questa è una storia di cui alcuni potrebbero dire sarebbe successo comunque. Ma chi la legge attentamente troverà spazio per meravigliarsi. Inizia un anno fa quando ho lasciato Los Angeles per andare a trovare mia figlia a San Francisco. Invece dell'individuo felice che era sempre stata l'ho trovata in profonda angoscia. Non conoscendo la causa della sua angoscia e non volendo chiedere aspettai che mi dicesse che si trovava in grandi difficoltà finanziarie e che doveva avere immediatamente 3.000 dollari. Non sono una donna povera ma non avevo molto denaro su cui poter mettere le mani così rapidamente. Conoscendo mia figlia sapevo che non avrebbe accettato comunque. Mi offrì di prendere in prestito il denaro per lei ma lei rifiutò e mi chiese invece di aiutarlo a modo mio. Intendeva dire usando la mia immaginazione perché le avevo spesso parlato del tuo insegnamento e alcune delle mie parole dovevano aver colpito nel segno. Ho subito accettato questo piano con la condizione che lei mi avrebbe aiutata ad aiutarla. Decidemmo una scena immaginaria che entrambi potevamo praticare e che consideravo nel vedere il denaro che arrivava da ogni parte. Sentivo che il denaro si riversava verso di lei da ogni angolo fino a quando si trovava in mezzo a un mare di denaro ma lo facemmo sempre col sentimento di gioia per tutti gli interessati e non pensavamo ai mezzi solo alla felicità per tutti. L'idea sembrava prendere fuoco con lei e so che era responsabile di ciò che accade pochi giorni dopo. Certamente fu trasformata di nuovo nello stato d'animo felice e fiducioso che le era naturale anche se in quel momento non c'erano prove che arrivasse del denaro vero. Sono partita per tornare a casa in Oriente. Quando arrivai a casa chiamai mia madre un'adorabile signorina di 90 anni che mi chiese immediatamente di andare a trovarla. Volevo un giorno di riposo ma lei non poteva aspettare. Doveva essere ora. Naturalmente sono andata e dopo avermi salutata mi ha consegnato un assegno di 3.000 dollari intestato a mia figlia. Prima che potessi parlare mi ha consegnato altri tre assegni per un totale di 1.500 dollari a favore dei figli di mia figlia. Il motivo mi spiegò che il giorno prima aveva improvvisamente deciso di dare quello che aveva in contanti a coloro che amava mentre era ancora qui per sapere della loro felicità nel riceverlo. Sarebbe successo comunque? No. Non così. Non ha pochi giorni dal bisogno frenetico di mia figlia e poi dalla sua improvvisa trasformazione in uno stato d'animo di gioia. So che il suo atto immaginario ha causato questo meraviglioso cambiamento portando non solo una grande gioia a chi lo riceve ma anche a chi lo dona. P.S. Quasi dimenticavo di aggiungere che tra gli assegni così generosi dati ce n'era uno anche per me di 3.000 dollari. Questa storia è filmata da MB. Le opportunità illimitate che si aprono riconoscendo lo spostamento del focus dell'immaginazione sono oltre ogni misura. Non ci sono limiti. Il dramma della vita è un'attività immaginale in cui facciamo passare i nostri stati d'animo piuttosto che i nostri atti fisici. Gli stati d'animo guidano così abilmente tutti verso ciò che affermano che si può dire che creano le circostanze della vita e dettano gli eventi. Lo stato d'animo del desiderio realizzato è l'alta marea che si solleva facilmente dal bar dei sensi dove di solito siamo incagliati. Se siamo consapevoli dello stato d'animo e conosciamo questo segreto dell'immaginare possiamo annunciare che tutto ciò che il nostro stato d'animo afferma si realizzerà. La storia che segue è quella di una madre che è riuscita a sostenere uno stato d'animo apparentemente giocoso con risultati sorprendenti. Sicuramente avete sentito la storia delle vecchie mogli sulle verrucche che se una verruca viene comprata scomparirà. Conosco questa storia fin dall'infanzia ma solo dopo aver ascoltato le vostre lezioni ho capito la verità nascosta nella vecchia storia. Mio figlio un ragazzo di dieci anni aveva molte grosse brutte verruche sulle gambe che gli causavano un'irritazione che lo tormentava da anni. Decisi che la mia improvvisa intuizione poteva essere usata a suo vantaggio. Un ragazzo ha molta fiducia in sua madre come regola così gli chiesi se gli sarebbe piaciuto liberarsi delle sue verrucche. Mi rispose subito di sì ma non voleva andare da un medico. Gli ho chiesto di fare un piccolo gioco con me che gli avrei pagato una somma di denaro per ogni verruca. Questo gli andava bene ha detto non vedeva come poteva perdere. Arrivamo un prezzo eco pensò lui e allora dissi ora ti pago bene per quelle verrucche non ti appartengono più. Non si tiene mai una proprietà che ne appartiene a qualcun altro quindi non puoi più tenere quelle verrucche spariranno potrebbe volerci un giorno due giorni o un mese ma ricordati che le ho comprate e mi appartengono. Mio figlio era entusiasta del nostro gioco e i risultati sembravano qualcosa letto in vecchi libri ammuffiti sulla magia ma credetemi nel giro di dieci giorni le verrucche hanno cominciato a svanire e alla fine di un mese ogni verruca sul suo corpo era completamente scomparsa. C'è un seguito a questa storia perché ho comprato verrucche da molte persone anche loro hanno trovato molto divertente e hanno accettato i miei 5, 7 o 10 centesimi a verruca in ogni caso la verruca è scomparsa ma in realtà solo una persona mi crede quando ti dico che l'immaginazione da sola ha portato via le verrucche quest'unica persona è il mio giovane figlio J.R L'uomo che si immagina in uno stato d'animo prende su di sé i risultati dello stato d'animo se non immagina se stesso nello stato d'animo è sempre libero dal risultato il grande mistico irlandese A.A. George William Russell scrisse in the candle of the vision mi resi conto di una rapida ecco o risposta ai miei stati d'animo in circostanze che fino ad allora erano sembrate immutabili nella loro indifferenza potevo profetizzare dal sorgente di nuovi stati d'animo in me stesso che io senza ricerca avrei presto incontrato persone di un certo carattere e così le ho incontrate anche le cose inanimate erano sotto l'influenza di queste affinità ma l'uomo non ha bisogno di aspettare il sorgere di nuovi stati d'animo in se stesso può creare stati d'animo felici a suo piacimento e con questo si conclude questo capitolo meraviglioso questo insegnamento e come vedete questi esempi ci aiutano questi esempi di vita vissuta ci aiutano a essere creativi con noi stessi e avere fiducia fiducia che la nostra immaginazione crea davvero la nostra realtà che noi siamo il nostro pensare la causa è quello che viene riflesso fuori come circostanze o esperienze di vita non è altro che l'effetto di quella causa di quel pensare allora io mi fermo qui e domani partiamo da qui grazie a tutti ciao a domani grazie grazie a tutti